Musica Ci troviamo in via Madonna del Lume, ci ha chiamato il signor Santo Zaccaria. Come potete notare dalle immagini si capisce il perché di questo SOS, la strada è completamente distrutta. Sì, effettivamente è una vergogna perché sembra una zona che è stata estrapolata da Caltanissetta e sembra parte di qualcosa di estra. Sembriamo in un altro mondo, a parte la strada che ormai non si può camminare, io personalmente sono caduto l'altro giorno, ma è un pericolo. E' un pericolo. Oltretutto si trova in Montizia abbandonata, una zona veramente che dovrebbe essere rivalutata come era in progetto, ma che invece è stata abbandonata completamente. Ora, io dico, non si tratta di spendere migliaia e migliaia di euro, qui si tratta di spendere poche centinaia di euro per sistemare almeno la strada. Anche perché a parte a piedi è pericoloso, ma anche le automobili hanno difficoltà, anche noi abbiamo avuto difficoltà a scendere. Certo, certo, anche le auto hanno difficoltà perché ovviamente gli ammortizzatori qui se ne vanno, a Ramengo dopo che uno ha fatto 4-5 volte questa strada, già c'è da sostituire gli ammortizzatori perché evidentemente la sospensione viene anche danneggiata. E quando piove cosa accade? Ah niente, qui è un fiume, è un fiume perché non ci sono tombini di scarico, per cui c'è da camminare con le scialuppe in pratica. Quei tombini che ci sono, ce n'è uno ma è già mezzo otturato, tant'è che quando piove è un fiume in pratica, è impraticabile la strada. Per non dire anche, perché poi io non è che do la colpa, do la colpa sempre alle istituzioni, perché qui sono state date delle case, degli essa comunitari, e mi risulta così e qui purtroppo c'è uno scontro anche di civiltà, evidentemente loro non hanno colpa perché sono abituati così. Se voi vedete qui c'è un vicolo, dove è abbandonato, c'è montizia, c'è di tutto e non so che cosa fanno la sera, ci sono delle siringhe anche abbandonate. Quindi voglio dire, sembra una zona che non fa parte di Caltanissetta, è un appello che io rivolgo alle nostre istituzioni comunali affinché provvedano, almeno di tamponare la strada, di sistemare, di evitare che qui ci sia, almeno questi vicoli che ci sono, che sono abbandonati e che non c'è nessuno, si chiudono, in maniera tale che invece qui è un rifugio, ci sono siringhe, c'è di tutto qui. Quindi questo è il mio appello che faccio, è semplicemente questo, sistemare qualcosa che non va.